il no natural ah gli fossi con Non lo scorderò, non lo scorderò, sì, tutto cambierà, ma l'amore no, resterà e non lo scorderò, non lo scorderò, sì, tutto cambierà, ma l'amore no, resterà e non lo scorderò, non lo scorderò, non lo scorderò. Non lo scorderò, non lo scorderò, non lo scorderò, sì, tutto cambierà, ma l'amore no, resterà e non lo scorderò, non lo scorderò, non lo scorderò. Allora Grazie a tutti. Allora, è un momento meraviglioso, soprattutto vedere tante persone di Corsico, ma soprattutto vedere, naturalmente, mischiato il futuro del musicore italiano, i ragazzi della MAM, i ragazzi della STM, della STM, del MAS, che ho dimenticato, STM, STM, MAM, MAS, STM, ho detto tutti? MDS! MDS, scusate, ma questi acronimi non sono semplici, ok? MDS, STM, STM, MAM e MAS. Rindilo più veloce. No. Allora, vorrei, vi permetto di aprire questo pomeriggio insieme molto importante con due banalità. La prima, tutti dobbiamo morire. la seconda, si incomincia a morire quando si smette di vivere e secondo me si incomincia si smette di vivere quando incominciamo a buttare lo sguardo, a rimanere ipnotizzati, accettando lo sguardo oltre l'orizzonte del tempo che ci è stato concesso. incominciamo a dare paura della morte e ci perdiamo, no? Ed è in quel momento che deve intervenire un esorcismo. A mio fine avviso, ogni tipo di arte è il più grande esorcismo che l'essere umano, l'uomo abbia creato per esorcizzare appunto quella morte. è la più grande celebrazione della vita di arte. Ogni tanto nascono esorcisti più potenti di altri. uno di questi è Malone Frantini. Grazie Applausi 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 celebra un suo figlio e naturalmente pensando a Manuel Frattini non si può non pensare a un figlio Manuel era profondamente figlio di Corsico, di questa città ogni volta che venivo a Roma mi diceva vieni a Corsico a dormire che si sta a Corsico a dormire perché si sta a me è una città, tu sei venuto alla provincia da me sembra un paesone, non ti perdere dentro Milano e quindi era profondamente figlio di questa città e naturalmente Manuel è stato il figlio perfetto ha portato in scena il figlio dell'eccellenza quel Pinocchio che da un pezzo di zeta diventa un bambino vero ma secondo me è arrivato il momento di poter far maturare questo pensiero inferito a questo grande bambino e forse potremmo cominciare anche da oggi a cominciare a pensare a Manuel come padre perché padre? Manuel ha tenuto a battesimo migliaia, decine di migliaia di spettatori che dentro un teatro non c'erano mai stati pensate cosa sarebbe dovuto succedere se al posto di Manuel ci sarebbe stato un altro Pinocchio in quello spettacolo che ha cresciuto generazioni di spettatori e non posso dimenticare Fabio lo sa la generosità di Manuel fuori dal teatro al tempo non esistevano i selfie quando lavoravamo insieme e arrivava la gente si faceva fare la firma nel programma di sala questa era talmente generoso che lui se c'erano 50 persone mi facevano proprio 50 persone quando addirittura una sera forse c'era anche lui ha fatto tutti questi autografi sorrisi e tutto stavamo per andare via ma visto che erano rimasti poveri di due piccolini con le foglie in mano e una penna che si avvicinavano a noi in grande attivitezza si è avvicinato e non ci mancherebbe altro ha preso e gli ha fatto l'autografo sulla cartina di Milano erano due cinesi che ci volevano chiedere un'indicazione ma è vero questo ok Manuel è stato naturalmente appunto ha tenuto a battesimo tanti spettatori ma è naturalmente padre puntativo di tantissimi artisti interpreti e performer che lì si voglia quanti ragazzi hanno cominciato a fare questo mestiere a voler fare questo mestiere guardando Manuel in scena e lo so perché ci sono Matteo dove sei? ma credo anche molti di voi che siete qua avete visto Manuel da bambini avete detto io voglio diventare quella cosa lì quindi Manuel padre e figlio Manuel sicuramente avrebbe detto ma naturalmente io e Fabio abbiamo fatto sette spose e sette fratelli quindi si può pensare a Manuel anche in qualità di fratello qui davanti a noi ci sono tanti amici gli amici della prima ora gli amici i vecchi amici gli amici dell'ultimo dell'ultimo periodo della sua vita e in questo momento oggi da un momento del tutto è arrivato il momento della celebrazione ed è molto bello che la prima celebrazione ufficiale di Manuel non avvenga in quella milano dove per tanto tempo abbiamo chiesto che avvenisse ma nella sua corsico e quindi oggi ufficialmente Manuel comincerà a vibrare come la sua voce Manuel Manuel amava un modo di dire cioè una vecchia frase di un film sono sicuro che vedendo il Murannes che vedete tra poco avrebbe detto I am awake it's the future that's more or bad it's more in San Setture ma quando le ricordano io mi ricordo di te tu eri grande e lei diceva io sono grande è il cinema che è diventato lì forse questa è una delle più grosse eredità e responsabilità che ci lascia a mano quando sarà incontrato su da Cigi Proietti da Pietro Garinelli e gli diranno io mi ricordo di te tu eri grande noi voi abbiamo la responsabilità di non fargli rispondere io sono il grande e il musical va a essere diventato piccolo e quindi mi raccomando la responsabilità è grossa ma oggi i gesti ce ne è uno grande da parte della sua famiglia e da parte soprattutto dell'associazione che oggi ci ospita in questo importante evento grazie grazie a tutti mi perdonerebbe se a un certo punto lascerò il testimone a Irene Romano Donaldini dove sei che ho visto che ho persa io dovrò fuggire perché questa diastasi come dicevo che non possiamo subito aprire mi darà mi obbliga a dover ritornare a Roma di corso perché domani sono sul set ma io e Irene portano avanti la seconda parte e incominciamo a ricordare mamma naturalmente il mio tipo è terminato con un'osprezione di di che cosa era a Roma dei fratelli è molto importante che soprattutto le nuove generazioni trasmettano questa cosa perché in epoca come questa se ci dimenticavano subito di tutto mamma è ad oggi l'unico comune denominatore del nostro mondo che l'ha preso quel simbolo assolutamente posso fare una domanda alzate la mano se avete visto mamma mamma è sul palco perfetto ok adesso lo vediamo invece sullo schermo attenzione che abbiamo sul palcoscenico quello di c'è chi nasce per guardare gli spettacoli c'è chi nasce per farlo ma c'è chi nasce per raccontare storie e chi nasce invece per ascoltarle e quindi riuscire a portare alla gente quello che riusciva a premare quando mi chiedevano agli inizi della carriera che ho cominciato secondo spettacolo era con Manuel mi dicevo cosa hai imparato da Manuel io non ho imparato niente da Manuel perché come giocare a palco con Messi cioè tu vedi Messi ma non ho capito che cosa ha fatto era impossibile capire cosa faceva che posso immaginare che cosa capiva agli inizi perché Manuel non so se molti di voi lo sa ma ha cominciato ballando liscio ok e l'associazione Manuel Frantini è riuscito a ritracciare con lei che è stata la prima ballerina no veramente sì che si chiama Annalisa Alberti e che è insieme a noi ballerina di liscio che ha caricciato che l'anno in coppia con Manuel Frantini la prima ballerina di mano che immagino sia tu ciao grazie piacere ciao la pace sia con te e prendiamo il scusa Fabio allora rimani rimani qua allora ciao piacere siamo in presenza al tuo bodyguard no lui ballava si ma ballavamo insieme ma pareva un'indice dolice anche tu con Manuel sì sì bene allora grazie a quello venite pure al centro allora che hai fatto fare per dire quanti anni avevano ne hai cominciato con Manuel quanti anni avevi tu e quanti ne avevi lui dopo tre anni più di me gli avevano diciamo di e qui gli avevano 17 era piccolo aveva 14 anni sì hai un ricordo del vostro primo appuntamento beh ne ho tanti ne ho tantissimi intanto io ho conosciuto Manuel quando era Emanuele in cui due e si sapeva già che sarebbe diventato Manuel perché lui quando ballavamo era il coreografo capiava delle sequenze doveva sempre fare qualcosa di diverso e poi era autore perché lui era già capace di memorizzare di tutto e di più cantava si registrava le cassette 14 anni lui era ma credo che tanto abbiamo cominciato a quell'età quindi speriamo no? sì assolutamente infatti è molto bene vedere tutti questi giorni che mi ammiravano mi ammiravano e poi mi ammiravano ancora perché lui ci sarà sempre vincevano sempre vincevamo sempre ci arrivano tutti c'era molta invidia e quando era sempre con sorriso sempre ricordo una cosa di quando non aveva fatto non aveva fatto fare le prove no lui improvvisava io dovevo stare di dietro non è tanto semplice come giocare con Messi quello che dicevo prima era sempre un vulcano di idee sempre facciamo così ma no se questo è così ma no dai capiamo mettiamo un pezzo di tinta un pezzo di tinta però questa cosa qui dai facciamo io facciamo un po' recenza diciamo ma no dai facciamo le cose con Messi e poi gli andavo chiesto anche tu sei il prossimo no io sono di Milano adesso però vivo a Torino ha tanti anni ok però l'hai visto in scena sì l'ultima volta l'ho visto con Benny e mi è piaciuto tantissimo Natural Menio che c'è sempre quindi dai posso immaginare mamma dietro le quitte come t'accoglieva ogni volta che arrivava no poi lui per esempio era oggi è su compriamo sui fio 25 e ogni anno io facevo gli auguri auguri mamma oh signora darei auguri anche a te li sono dimenticata io ripeto 14 quindi ogni anno io sapevo che quanto avrei fatto gli auguri avrei riuscito i miei sì e poi l'ultima volta mi ha detto scusa li sono dimenticata colpa della Benny vabbè c'è una cosa particolare che non so se Fabio sicuramente può certificare ma credo anche lui Manuel era veramente una stella sul palco c'è lui aveva una stella sopra che brillava eppure questa stella non faceva mai ombra a nessuno no cioè non era che Manuel le irradiasse una luce che accettava ma lui innalzava le persone che erano insieme a lui le aggoglieva e questa è una cosa molto molto rara e immagino anche voi come coppia ne abbiate l'ai profittata su Paco Chef perché bellissimo grazie hai un piccolo aneddoto qualcosa un ricordino ne ho veramente tanto perché lui era un tanto spiritoso era un po scherzava sempre lui era mio confidente era mio mi dava consigli d'amore mi diceva sempre cosa fare tu a 11 anni avevi bisogno di consigli beh certo avevamo delle corte da paura e lui mi diceva cosa fare poi magari infatti non lo so mi disegnava benissimo mi era parecissimo a disegnare mi truccava lui quando dicevamo le gare le sfezioni era lui che mi truccava finava quindi per me un santello un amico tutto anche tu hai aiuto di fare quindi sul palco scelto o non su palco scelto no per aspettare fuori sì come tutti non vogliamo tornando dietro di un passo ci siamo conosciuti con lei questo c'è troppo nessuno esiste più a il suo sogno avevo 13 anni in un'altra in anno stiamo parlando di 45 anni in aneddoti ce ne sono tanti da raccontare io mi piace ricordare un po' brutto l'ultima volta che l'ho visto che quando teatro la c'è in vuoto vedere con il nostro luogo di dc3 quando è finito non lo avete non ci siamo aspettati dietro ci sono saluti così poi l'abbiamo lasciato e se non ci siamo salutati siamo venuti via grazie a noi stava io e mia moglie siamo fermati in un mcdonald nelle parti di casa nostra a zona alfori mia moglie si è seduta e io questo ricordo mentitissimo e mi sono andato ordinare e mentre parlavo con la tipo ho visto quest'ombre mi ha dato una culata proprio così mi sono girato a lui mi sono girato gli altri usati a termine che cazzo ci fai guarda no ma io finisco gli spettacoli che non vuoi sempre qui non mi mangio le mie schifezze voglio le pittagge enziane 40 minuti spaccata mi bevo il mio amaro nel capo e poi vado a letra e io questo ricordo di mamma è bellissimo me lo tengo come ricordo bene mi devo questo tra i tanti grazie 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 di salvo grazie per aver portato diciamo i primi anni del manno del professionista di fronte a questo meraviglioso pubblico grazie di cuore e per avermi accomodato ci spiace magari le accelerazioni più grandi ma in questo giornata miracolosa dove abbiamo avuto abbiamo la fortuna di avere tutte le scuole di musical ridite la mts vai vai sdm ma cos'è questa masceria mi fai mts sdm sono vestiti così ma in realtà sono dei ragazzi di mamma le ha presi i suoi ma io vedavo che spacciavano che la mette più fuori si 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 e mas e non so se sono le dati i ragazzi del mamma che ecco i grazie ragazzi ciao ferita non è la quantità è il problema nucleare si si ma è il problema dalle prove perché hanno ancora l'adrenalina addosso beh comunque prima di passare agli amici di mamma e leggere qualche video di chi non è potuto essere oggi qui tanti che comunque hanno voluto lasciare un messaggio e l'esempio di mamma era l'esempio dell'attore che è artista 24 ore su 24 pensate che a Roma si stina durante sette scose versetti e fratelli la mattina facevamo le registrazioni del disco il disco sicuramente conoscete tutti di sette scose versetti e fratelli poi facevamo una doppia e poi mamma mi portava al karaoke mamma mia si è benissimo benissimo cioè mamma non smetteva mai di essere artista e questo secondo me è una lezione pazzesca che ho parlato da lui scherzavo quando ci vuole non ho imparato niente perché mi ha fatto capire che artista è colui che è quello che fa se tu sei artista anche al karaoke l'importante è che come dice lei chi nasce pesce il male lo chiama e Manuel era sempre in acqua signori un piccolo video di 5 minuti di amici e colleghi che hanno voluto ringraziare l'associazione Manuel Frattini per questo murales e salutare Manuel e tutti voi e insegnarvi a combattere con il contello Freiretti ci sono i direttori artistici delle vostre scuole uno di questi è un grande regista l'ultimo regista di Manuel Frattini e si chiama Matteo Gastaldo allora vieni al centro Matteo allora Matteo regista soprattutto degli spettacoli del Mas spettacoli come Priscilla che avete visto tutti quanti eccezionale come Simone Leonardo prima hai con Manuel Frattini e dopo regista dello spettacolo 50 sfumature e ti ringrazio davvero di scelto per fare quella cosa grazie a lui e adesso il futuro spettacolo Legal & Blog allora tu hai avuto tanti punti di contatto vieni Fabio hai avuto tanti punti di contatto con Manuel paradossalmente come se tu risise un cito non è un attualità un inizio un affinché proprio l'hai visto all'inizio alla fine della sua serbiera l'ho visto all'inizio grazie a lui ho fatto l'audizione inizia anche lui poi ricordo Slime che è stato nostro primo musical mi piace ricordare Manuel generoso perché è tutto lui che mi ha aiutato a preparare un monologo per esempio generoso bravissimo un mic strepitoso un'idea 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 veramente fantastico lui volava e faceva una ribaltata manteneva la nota finale che comunque è bello intenso coprirlo essere suo swing cover impresa difficile poi è caricato un pochia lui ha continuato a lavorare migliari di dopo con la compagnia dell'arancia io faccio ancora alcune produzioni qua e poi sono stati 25 anni in Germania quindi ci siamo professionalmente separati e quasi 25 anni dopo lo dicevo che sta telefonando durante l'estate diceva ma c'è ancora bello detto ho detto sì in effetti sì e peraltro io ero via della santa francese mi parlava proprio in una mano il giorno stesso mi chiamo una mano e gli dico guarda va benissimo torno il primo di settembre viene a fare la edizione perché è giusto che sia il nostro prodotto che il nostro direttore musicale e lui arrivò e ho visto che era leggermente nervoso che le capita gli dava dai Manuel mi ha detto Matteo hai detti due anni che non faccio più un provino quindi si era completamente disabituato e dopo 5 minuti ma neanche 2 minuti era a suo agio di come fare la scena e anche in questa produzione ha portato la sua esperienza a Manuel e migliorato tantissimo amava questo si divertiva a farlo è migliorato attualmente è stato disponibile con noi con i suoi colleghi abbiamo lavorato e siamo partiti dal ruolo Bernalette per arrivare a mano e non è da tutti è stato molto generoso in questo senso e un'altra cosa buffa è allora noi a fine spettacolo c'era un'ex music lui si era inventato chiedeva di come fare si parli perché era talmente generoso e amava stare col pubblico quindi non voleva uscire di scena se ne andava la terra e lo senti ma non si può fare questa cosa e mi pensavo è per lui in questo modo assolutamente divertente simpatico io non mi visco marcare quest'anno mai stanco e mai marcare esatto questa è una cosa importante perché visto che c'è qualche generazione nuova il regista vuole vedere se lo spettacolo funziona quindi se tu marchi il regista dice non so se questo spettacolo va o non va giusto? vengo io ci tengo a dire un'altra cosa grazie per avervi in questa accademia è bello vederli insieme e spero in futuro di vederli lavorare insieme facciamo un applauso a chi è? io ho pensato solo a poco cambi l'organizzazione e l'associazione manufattiva sì devo dire che sono se mi posso permettere particolarmente orgoglioso sono particolarmente orgoglioso che abbiano accettato questo ispito perché vuol dire che tutte le scuole mi considerano un po' la spizzera del musical nel senso un paese neutrale no? e anzi voglio ringraziare Davide Ienco per la SDM che è qua vieni non sono qua ringraziare Simone Nardini della FDS ringraziare Alice Mistroni della SDM Chiara Moschese del MAM grazie grazie veramente senti io ti ringrazio perché vediamo colleghi vediamo amici ma comunque ripeto noi stiamo celebrando un personaggio pubblico un grandissimo professionista e ti voglio dire che come si approccia nel senso lui è rivoluzionato ma tu come sta comunque dirigevi tu hai fatto un'esperienza clamorosa una grande esperanza no? e soprattutto internazionale che io ho avuto la fortuna di toccare con il MAM però poi ti arrivavano affrettini cioè ti ripeto arriva Messi che gli dici? a Messi stai lì e fai quello che no? cioè lui aveva una grande genoestà ma tu come eri? eri tranquillo? sei una persona molto sicura di te e sai dove puoi arrivare però quando poi ti trovi Ronaldo in squadra no? che effetto fa? allora quella semplicemente esperienza mi ha aiutato il fatto che io non me lo conosciuto dopo 15 anni siamo andati a fare la canzone insieme un giorno ma ripeto lui guidava cantavamo le canzioni mi ha fatto il carcotti in macchina e quindi era molto mio agio con il MAM con la mia le sue idee avevo trovato un punto di incontro ma voleva veramente farla questa esperienza è stato quasi l'unica scena con quello spettacolo e quindi ero una di rispondibili giorni e poi ci sono stati altri amici di Manuel che mi hanno aiutato anche a casa altri colleghi che hanno fatto l'esperienza di crescita nel castro originale di Fondre e versi e quindi entrano in alto e ci siamo compresi grazie grazie a te grazie mille grazie a te e quindi chiamavamo chiamavamo al telefono l'hotel della Gorgi fingendoci giornalisti e intervistavamo la Gorgi per finta per poter parlare con Loretta Gorgi ed era male lei non l'ha mai saputo che non era un giornalista questa cosa va su internet quindi adesso lo so parlo eh sì infatti eh come anche non di ricordare mi hanno fatto unico grande maestro italiano di Brian Bull devo dire che Brian ha 20 anni che in Italia non parla come Dan Peterson no allora signori è arrivato un momento più istituzionale scusate sono stanco istituzionale perché ero sui set e sono stanco allora è il momento più istituzionale della serata è il momento di chiamare e ringraziare il sindaco di Corsico Stefano Antino Ventura sindaco grazie il primo ricordo ufficiale di non avviene mi ha ma viene nella sua corsa così questo è pure il mio intervento chiaramente buonasera non che a tutti non può essere a livello di chi mi ha preceduto evidentemente dove sta andando sindaco sto camminando perché sta uscendo di quinta tecnicamente venga al centro perché io non sono performer quindi certe regole e quindi anzitutto sono io che ringrazio voi e vi racconto un velocissimo episodio che farà l'interetta che in questa sede penso sia importante nel 2019 io non ero ancora sindaco la città era commissariata e ho questo ricordo fortissimo che mi è rimanata sempre e di questa chiesa stra piena di gente e mi ricordo quello che ho pensato ho pensato ecco quella persona Manuel Frattini deve essere una persona di un'enorme generosità e di un'enorme energia ho pensato queste due cose e questa sera ho avuto a conferma che quello che ho pensato era giusto io mi devo fare una confessione non ho mai avuto la fortuna anche il privilegio in un certo senso di vedere Manuel in scena e questa è una cosa che mi porto dentro e di cui sono molto dispiaciuto perché tutto quello che ho visto veniva fuori proprio quello che dicevi tu che secondo me è la cosa più bella che è stata detta cioè l'idea di una persona che brilla senza mettere luce degli altri io penso che questo sia un messaggio che tutti quanti noi ci dobbiamo portare ci dobbiamo portare dentro ci dobbiamo portare nel cuore e proprio per questo ritengo che sia importante che una città dia un riconoscimento pubblico a una persona come Mario Fattini guardate l'arte gli artisti la cultura è ciò che ci rende bene è ciò che ci tiene in vita è ciò che ci consente di sognare e di migliorare ogni giorno ed è per questo che veramente è un uore per noi ospitare il murales che poi andremo a svelare più avanti qui voglio ringraziare personalmente sia la famiglia di Mario Fattini che ha accettato di organizzare insieme all'assessore Ancella Pisa Fulli che ringrazio e a voi tutti questa applausi è sempre ragione l'uncolo è di lei che ha creato tutto questo la nostra Patrizia applausi comunque è un murales è un simbolo evidentemente e io spero che sia un simbolo che rimanga all'interno della nostra città e che trasmetta la generosità e l'energia di Manuel a tutte le persone che passeranno davanti e potranno ammirare quel murales quindi nel giorno del suo voto le hanno io vi chiedo un applauso un intervento un intervento un intervento perché questo spedetto un intervento e un intervento di una domanda da tutti di un paese e di un paese grazie applausi 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 ci siamo tutti domandati ma lei quanti ha? non si chiede non si chiede non si chiede non si chiede al sindaco attenzione vedi che a lei ma adesso fate pure gli smith facciamo schiavo commessa ma è molto semplice ce ne ho 18 consideri ah giusto ok bene allora stiamo per arrivare a è arrivato il momento di una pausa di quanti minuti una decina di minuti giusto? una decina di minuti e poi io passerò anzi niente su Irene Romano così stiamo assolutamente ceri la diretta l'ultimo anno siamo stati insieme anche là Irene Romano Bernardini Giorgio 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 dell'associazione Mamma e Frattini il fratello di Mamma e Frattini allora c'è è vero c'è un'associazione un'associazione tutta la Mamma e Frattini ma stiamo presenta il primo fratello ma non ci conosce che è ricossico è un uso di fratellino fratello però la famiglia è una persona e qua c'è anche la zia prestino bellissima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Quanto si è portata? Pertissimo. E' qua fino allo sfidere? Sì, sì. Voi vede il murale, lo scopriamo tu insieme. Con un tre uomo. Inizia. Questa è la parte della famiglia della scuola. Buon appetito. Buon appetito. Questa è una per chiudere. Io vi permetto di ringraziarmi ancora, sia i cittadini di Corsico che i cittadini del musical italiano. Grazie per essere veramente a Corsi. Credo che sia, spero che questo sia un evento, visto che poi, anzi posso fare un piccolo fuori programma. Posso vedere che dura solo quattro minuti. Siccome non c'erano quelli della mamma, posso dire sui cinque suristi che erano adibiti a cantare, mi raccomando. Allora, questo è il sito del grande Frantini. Con un organonatore, il musicor italiano. tutti i ragazzi per l'area che è il secondo se mi hanno fatto il nostro questo è quello che mi ha detto mi raccomando io dal dottore sono in scena a Milano quindi organizzerò una bella festa una bella cosa da avere tutti insieme quando di nuovo tutte le scuole voi condividerete lo stesso parco scenico quando diventerete professionisti abbiamo qui Davide Guadalafini da SDM il mio figlio è lì mi ha chiesto io ricomincio lo U deve essere di tutte le 5 se no stanno a fare l'Ucraina e la Russia allora io dovevo fare il prete signore è inutile Davide Davide della SDM Camillo Tonelli MTS Pakistan Riccardo Giacardo Giacardo fl� Giacardo di Giacardo Giacardo Allora, Patrizia, ci rimandi una canzone, così io vi saluto, anzi, prima di mandare la canzone voglio ringraziare e salutarvi, vorrei annunciare anche io una piccolissima, unile eredità a tutti, anche se spero di incontrarmi presto sul palcoscenico insieme da professionisti, insieme a me, magari ci sarà l'opportunità, e voglio ricordare questo a tutti i ragazzi che stanno per entrare nel mondo del lavoro, dello spettacolo, sta per cominciare un gigantesco dopopuerra, quando è scoppiato il Covid mi sono sorpreso a pensare, Manuel ti sei preso il Covid, e poi invece ci ho ragionato e ho detto no, il Covid si è preso Manuel, nel senso che il corpo, quello che è successo, aveva bisogno poi di persone come Manuel sul palcoscenico di riportare la gente al teatro, ok? E quindi sfortunatamente abbiamo un anno in meno in questo momento. Quindi ragazzi state per cominciare un enorme dopo guerra, dopo il Covid, dopo il preghina, e il dopoguerra è storicamente il momento più prolifico artisticamente e culturalmente di una civiltà. Quindi mi raccomando, siate creativi. Musica, grazie. Prima, perché qua io volevo dire una cosa, Cristian è una persona da mille impegni, ha fatto le corse, perché non so se lo sapete, lavora in tutta Italia, 24 ore, 48 ore se ne avessi 24 ore, però a questo evento non è voluto mancare. E io con tutto il cuore ti ringrazio, perché hai fatto la corsa per venire qui, fai una corsa per ritornare a Roma, ma ci sei voluto essere. Esatto. E tra l'altro, possiamo dirlo, è venuto qui il nome dell'amicizia e dell'amore che ti legava al ricordo di Manuel, non è stato pubblicizzato il suo nome in nessun modo. Quindi io sono molto felice quando io ho salutato e ho visto che c'era anche lui il pezzo della relazione molto importante, non è stato pubblicizzato il suo nome. E' giusto questo. Patrizia, musica. Quello che ha fatto sai, l'ha fatto di l'amore, è finito e non è più, ma è sicuro che non lo scorderò, non lo scorderò, non lo scorderò, non mi rimpiancherò. Ma è sicuro che non lo scorderò, non lo scorderò, non lo scorderò, non lo scorderò. non lo scorderò, non lo scorderò, non lo scorderò. Non lo scorderò, non lo scorderò, non lo scorderò, non lo scorderò, non lo scorderò. Tutto cazierà, ma la maledà resterà nel conto. Un saluto qui, di fronte c'è tutto, un saluto che non so farà. Un saluto qui, di fronte c'è tutto, un saluto che non so farà. Un saluto qui, di fronte c'è tutto, un saluto che non so farà. Un saluto qui, di fronte c'è tutto, un saluto che non so farà. Non mi scorderà. 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 Don Lorenzo conosce Manuel da quando era vicino a Picciò e bar con crema, mi ha detto. Anche lei ha una professione per i social, perché lei è... come si chiama sui social? Lorenzo con gioia. Perché è un po' che io quando lo incontro sempre sorridente. Ma raccontaci qualcosa di... come nasce a piegarmi anche con Manuel? Molto semplice. 2003. Far vedere i musicoli in occhio. Mi piace talmente tanto che... Ritorno la seconda volta. Mi raccomando da lei da sentare i protagonisti. Ehm... Io lo rispondo in campo. Ritorno la terza. Mi piace molto il musico. Ritorno la terza. Eccolo. Lui con la mamma mi aveva ragione. Ritorno la terza. Ma in quel momento lì... Esce tutto truccato. E poi era... Ehm... 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 E mi dice... Ah! E' tornato a vedere una seconda volta. Dico... No! C'era la terza. E da lì... Vieni iniziato a faccio la porta. Ci sono stati... Un bel intervento. E ho iniziato davvero un piano poco... Eh... Di amicizia. E mi ha continuato... Eh... Ehm... E chiedo subito... 8-93-2004... Giorni del mio compleanno... Sono a Roma... Pernando di studi... Lui... Il signor di Stefano... Senza chiedi nulla... Si presentano... A Roma... Per anni... Gli auguri di un compleanno... Sina di Stefano... Il signor di Centro... Che avrebbe portato... In questo quante mesi... Per gli anni... Che dice... Che a Roma vanno mangiare... Io dire... Emanuele... Non ha scontatamente... Venuto... A fare il mio buio... E davvero... Ricordano molto bene... A tutti... Grazie davvero... Grazie... 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 Per una ragione semplice... Io... A differenza di tutti voi... Emanuele... Non l'ho mai conosciuto... Eh... Però... La fortuna di un compagno ancora... Degli oratori... Dell'oratorio... Nel quale... Emanuele... E' nato... E' cresciuto... E... Dove ha fatto partire... Tutta la sua passione... Per il teatro... La gente... Venendo... Venendo a questo... Perché... Se voi... In questi giorni... Vengistete il nostro oratorio... Tornerete il teatro... Che... Che... Ha ripreso il suo fermento... Questi giorni... Un gruppo di giovani... Legati al oratorio... Ha messo in scena... Forza... Mende gente... E in questi giorni, proprio in questo momento, adesso un gruppo di cento preadolescenti stanno facendo le ultime prove perché faranno lo spettacolo, il giro del mondo in un'altra giornata, proprio venerdì. E dicevo, ecco, probabilmente Emanuele nasce da tutto questo, da un'attenzione tentativa che la nostra città, le nostre comunità, nella tradizione, non si può mettere in piedi, fornendo a un ragazzo la possibilità di sviluppare i suoi talenti, i suoi doni, che poi dopo hanno dato l'identità nel passione e lavoro, magari anche un piano molto carismatica, un po', dentro il proprio progetto. E poi ho conosciuto Emanuele in un altro modo, le imprendite spesso, le persone che arrivano direttamente, ma le racconti in Italia, le racconti anche della sua mamma, quando nei giorni in cui poi Emanuele non c'era più, sono andato a trovare, ho fatto lunghe chiacchierate, e sentire dalla mamma quanto Emanuele amasse volatoria, fosse riconoscente i dati di quel percorso che, nel gioco, nella condivisione, nell'esperienza educativa, per lui è stato importante, ecco, io penso che è un motivo di grande orgoglio, per la nostra comunità, per la città intera, quindi io mi auguro che Emanuele abbia aperto unicamente nell'estate, in cui le quali anche altri ragazzi possono vivere loro. Che meravigliate, grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Allora, insomma, Altea, che bello! Allora, direi che scriviamo che Altea, appunto, collabora con l'Academia Mamma, quindi abbiamo contato un paio ragazzi, come vorrei essere qui per il piacere di esserci, e Altea ha lavorato con Manuel e Altea reteva anche a mia città, e quindi, Altea, ci piacerebbe che tu potessi, anche solo un minuto, ricordarci un bagliore di tutte le avventure passate con Manuel. Allora, di Manuel, questo corpo c'è, che senti che fanno stasera, che conosciamo quasi tutti, no? E la sua formatica è forte. Quello che mi ha lasciato male, è stato un attimo, l'insegnamento può essere uguale, nel senso che, a differenza di tanti grandi anni del teatro, del cinema, del musical, Manuel non ha mai parlato a un'altra collega, vero, questa cosa, anche quando, sai, si poteva fare facilmente, anche quando aveva l'interpreteva essere dietro l'alto della lingua, che era molto semplice, no? Adesso di un collega che magari si comportava mai, questa cosa mi è rimasta proprio un insegnamento enorme, mai avventarsi, mai parlare mai di tanti, sempre con l'immenso rispetto, tra i grandi lettori, a tutti, ma a volte del caso della giornata, mi ha sempre avuto questo, questo affeggiamento, no? E poi era sempre positivo, qualunque cosa accadesse, c'era giù, e altro, si compiò la scelta, lui era sempre positivo, sempre con un sorriso, una parola che un pareggio ha detto, di una grandissima unità, la sua caratteristica, 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 penso sempre poi, dopo che l'ha conosciuto, era proprio così, no? Ma mai fatto di vivo, ma non lo avrebbe avuto, e avrebbe avuto, avrebbe avuto, avrebbe avuto, sì, in più di una situazione, era spesso prima di questa assoluta, di vista di vivo a Corsico, ma aveva sempre con l'Italia, come diceva prima Cristian, di inclinare anche chi un avrebbe avuto in Puglieto, e questo è un rapporto, è un rapporto di voi. Tra l'altro io da un amore vivo a Corsico, quindi, quando andrai a lavorare la mattina, mi fai un saluto, ma cosa fassi? In decennio ho detto, e tra i miei siamo stati colleghi di Manuel, e lei mi sono scostata, io mi sono mai avuto in un altro modo, però, io so che Manuel era un po' picco, ma non mi attendeva a fare scherzi, ecco, ecco. Allora, io l'ho sentito un po' di tutti i colori, tipo situazioni che, è vero che l'ultima si spizza, che io all'ultima iniziavo a fare scherzi, scherzi, tra cui, ditemi se vede, quando aveva le scene un po' romantiche, mangiava una cipolla, apposta. L'aglio. Andava dietro i clienti, molleva le cipolla per fare le cipolle, è vero che sta a fare, si faceva anche il dente nero, quando lo ricordavo, e si girava la cipollina, e io ho trovato il dente nero, ma fai, non lo senti. Questo fa capire quanto non fosse assolutamente l'antica della situazione, ma era una che faceva molto una grata compagnia, sostanzialmente quello che si è responsabile di tutti, dai tecnici, dalle maestranze, tutti. Voi avete fatto uno spettacolo che era meraviglioso, che è la piccola bottega, e quando ci siamo visti, con i fattori del musical day, abbiamo un po' di racconto, mi hai ricordato un momento bellissimo in cui tu eri molto emozionante, perché hai aiutato ad affrontare il tuo personaggio. Sì, perché io sono stata tutta la inscena, senza essere la cora della protagonista, ma perché c'era stata l'emergenza, che è il regolatore che era il libro del governo del Baraccio, e ho detto, al te ha devi entrare. Ma come? Perché questo è niente, no, devi entrare. E il mio problema è stato fondamentale, perché non solo mi ha sostenuta, ma io ero ancora un attento per quella produzione, avevo un contatto sempre qui, con cui piaceva, perché lui a quel punto va a stare, non era la stana casale, ma che era in fronte di una situazione così. E invece lui mi disse, no, oggi sei tu una stana, non mi interessa arrivare, sai tu per ultimo, uscirai tu, ma io non sono nessuno, quando non sono il nome, uscirai tu. E lui mi fece uscire per ultima, con una grandissima umiltà. Io vedremo un po' di ricordare di così cosa, perché ho detto che ragazze che un giorno ancora per inventare Emanuel, la può fare, la carriera che ha fatto lui. Però questo gesto fa capire che se si vuole essere davvero artisti, bisogna avere sempre quell'aspetto. Non si lavora un po' bene, dietro la situazione, ma si lavora in gruppo. E c'è stato che ti ha fatto la vostra situazione. Credo che i ragazzi che vogliono diventare un performer, che vogliono parlare questo grande bagno di umiltà, da parte proprio dei migliori. Sì, 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 studiare sempre, non mettessi male in gradino su tra gli altri, essere sempre pronto a preparare anche dall'ultimo dei performer del foto di Baccio. Lui era così, chiedeva sempre, si informava, si preoccupava di che ti stessero bene, sempre, una grandissima domina che ha fatto a lui. Grazie. Sì, c'è anche altro. Sono tutti i campi, sono tutti i profondi meravigliosi, veramente, puoi notare come tutti i bambini. Nel loro, a loro modo, hanno un ricordo così limpido, ma anche chi l'ha conosciuto sa quanto questo è la sua caratteristica. Sai cosa mi è piaciuto di tutte? Le testimonianze che abbiamo visto e che vedremo, e che non si parla mai. Un artista bravo, bello, fantastico, che talento. Tutte le testimonianze in qualche modo raccontano la persona che c'è dietro al spettacolo, e quanto abbia lasciato a libero il motivo dei suoi colleghi. Come dicevano Maltea, ma anche adesso, anche a partire dalla caverna, perché questo credo sia molto importante per i ragazzi, che in questo momento vogliono fare un performer. Mario, io mi ricordo che quando è iniziato a fare il musical, non esisteva in Italia neanche anche il musical. Lui si è fatto la caverna, poi tra l'altro ancora, abbiamo scoperto prima, dicevamo, parte da tante standard, per poi studiare per il proprio voto il canto, andare a fare lezioni in giro per Milano, provini, poi ricordiamo che per tanti anni è stato un ballerino televisivo. E' molto diverso al percorso degli amici del 2022, che si pensa di passare da un talent, possa renderci una vita più facile. Però se oggi stiamo a parlare di Maltea, perché io ho lavorato tanto per diventare quello che era, anche a livello personale, e infatti quello che vediamo è quello che ha lasciato le persone. E non solo, era bravissimo a fare il 700 minuti, non è questo, è proprio che è una persona che vale la pena ricordare. Sì, ma poi mi piace dire a questi ragazzi che sono qui oggi, che non hanno mai permesso di imparare, essere artista, non vuol dire arrivare a un punto e fermarsi, perché la vita è debole, non puoi rimanere a creare uguale a te stesso, ma torni indietro. Allora come artista, devi cercare veramente sempre di imparare, rubare un palterno, una stagna, tutti gli altri. Solo questo è il modo per continuare a essere un artista del tempo. E lui è il mio modo più buono che interpretava, cercava sempre di mettersi in gioco, di trovare diverse sommature nella sua recitazione, la sua voce. Questa cosa è una caratteristica unica di mandra. E poi mi piace anche a dire un'altra cosa, chiede di mandra, tu hai incontrato la signora di Porsico, e mi hai detto, sai Fabio, ogni volta che mi riconcontravo, mi abbracciava, non mi sembrava bastare. Questa è un'altra cosa grande, grande, grande finale, che davvero per lui persone avevano un valore. Si è persa questa cosa. Anche soltanto lo scambio di riconoscere una persona, perché ho vissuto quanto il vicino vicino, per regalare il sorriso più l'abbraccio. ecco, questa è una cosa che deve continuare nella sua legacy, come diceva Brian. E' bello anche appuntarlo, ma non personaggio, ma persona. guarda. Io voglio solo dire una cosa al loro, ragazzi, Manuela non aveva una dotte naturale, quella scintilla, che non tutti hanno, però c'era tanto al loro. Cioè, lo sappiamo, Manuela aveva qualcosa, che è difficilmente strumentista, ma non si è mai basato o seduto su questo. Come dicevi prima, facevamo due cartelle con il regime di Priscina, su quanto si mettesse ancora la prova, la testa prova a se stesso, per portare un personaggio completamente diverso e aiutasse di gusto la sua vita. E anche in questo caso non si è seduto sulla sua autorità. Assolutamente. Andiamo avanti con il nostro terzo ospite, Francesca Del Voda. Francesca è anche lei di questo concorso con il federale che ha messo in contatto l'associazione al comune. Francesca, è un piacere di avere qui con noi oggi, mi so che ci tenete molto e quindi sono il primo a ringraziare. Grazie, grazie. È difficile guardare voi da profondo queste belle esperienze. E' un'illusione bellissima. Andrò per me, che ho ancora un grande amico. Io, quello che ti posso dire è che l'ho conosciuto nella vita di Rafa. Anche se noi ci siamo conosciuti tramite amici della musica, io ho guardato la musica, e quindi noi ci siamo incontrati in uno spazio artistico ma che poi abbiamo quegli resti in un'attività privata. Andrò per me è molto bellissimo. perché Manuel era una persona straordinaria, era un uomo straordinario, un amico straordinario. Eh, l'illusione, sì, è una delle caratteristiche che Manuel ha, perché ce l'ha. E forse, per rendergli veramente omaggio oggi come amica, posso dire che lui aveva quella capacità di guardare le persone essendo sempre il punto di piedi, mai troppo in là, mai troppo indietro, mai troppo, è sempre giusto che con questa grandiosità. Forse è è grande, l'umiltà è una caratteristica di grande, per quanto me lo dice sempre, ed è vero, lui è un grande uomo, un grande amico, e a me è un grande amico anche tantissimo. Grazie. 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 Ricordiamo che è l'associazione culturale ma di cerchiamo di invece di di Vieni, 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 Patrizia. Allora, abbiamo discorso, ovviamente, questo di quindi, eh, per Riccardo, semplicemente per tutti qui, nel primo anno e ultimo davvero, e ringrazio la mia famiglia, la di Manuel, la zia, la nonna, che era la mamma di Manuel, che mi ha un po' dato la pezza di sabrità, di portare a parte la generosità e l'umiltà di Manuel, e il fatto migliore mi ha portato con un'associazione che possa aiutare gli altri e questo è il primo evento che riusciamo a fare e penso sia il migliore dei modi per iniziare e spero di di aver reso mangiare nel modo giusto alla persona che era grazie di ovviamente ringrazio la città di Corsico con Finlaco e l'assessore Angela che abbiamo sopportato di rispira la città del momento quindi se non ne le parole niente gano ancora e gano grazie a te per la cura e l'amore che hai messo in ogni piccolo dettaglio grazie a te e grazie all'associazione Mano Stratini è ora è ora it's time ok allora cosa facete niente ma abbiamo un po' rispondo che abbiamo fatti allora io vorrei chiudere quello con un mio piccolo ricordo qui abbiamo tanti colleghi però io vorrei essere l'altra faccia dei colleghi cioè io ho vissuto Mano come pubblico e come fan e volevo ricordare una altra cosa io l'ho conosciuto con solo 18 anni facevo la piccante a media sempre del pubblico e vedevo questo ballerino allucinato scatenato e dicevo chi è sto fatti su che era fatti io ho fatto il mio compito era la un io ho pagato per la voglia perché volevo imparare il mestiere del punto dello spettacolo il pazzesco come la nostra vita si sia rincrociata e che oggi sia qui perché poi ci siamo ritrovati ognuno con un mestiere diverso ed è una cosa importante io per il mio lavoro io lavoro con il mondo dello spettacolo con il mondo della danza musical spesso mi capita di conoscere persone che vedo in scena e ho sempre il terrore ma mi deludano perché quando tu è una persona che arrivi sul palco dicevano adesso la foto sto per dire mille mille cosa succede con mano e la testa molto scelte come più lo conoscevo e mi dicevano ma questo mondo buono ma c'era un difetto e in più oltre hanno simpatia ricordiamo sempre parlando dei fan che veramente è uno dei pochi che anche quando aveva la fiove non andava via se fuori dalle volte crede ma penso che abbia anche la cosa è salta anche la replica sulla secondo me no perché ricordo anche il aspetto aveva anche il tema andava comunque in scena sì sì assolutamente c'è un pezzo di video perfetto una simpatia tra gente allora adesso prego tutti anch'io e un solo che può terminare per riuscire con tutti quelli che hanno fatto la parte di il film della sottolinea tre due frontini no no b grazie due qui la presidente e per la sottolinea e il di la giunta abbiamo visto che ho riparato a parole e abbiamo un gesto simbolico e un patto quindi ringraziamo ufficialmente e grazie 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 per la ultima emozione perché non si vuole chiedere un altro modo tutto sicuramente è complicato nel bar ad oggi perché abbiamo avuto mille imprevisti abbiamo la mia che è voluto questa giornata che era in cuscola e fa due cari che compriano Manuel e lo che è voluto fare qui nel non c'è il posto l'adotecione ideale ovvero l'ambiente della nostra città così che chiunque la voce può andare a essere accorti dal sorriso di mamma e del fede quindi grazie di tutto grazie è un onore per noi che vi avete scelto di fare la prima iniziativa dell'associazione qui a Corsico e sono state dati tantissime cose oggi e penso che non ci sia più niente da aggiungere quindi l'ultima cosa che vi dirvi è grazie grazie a voi facciamo un bel oh guarda quante persone per Manuel tutti per Manuel eccolo qui io voglio dire soltanto un'ultima cosa che Manuel è stato per me un grandissimo amico una persona che mi ha insegnato tantissimo nel mio lavoro e che portano in cuore e come su tutti i suoi personaggi che sono stati magici da Pinocchio come vediamo qui Peter Pan Aladino tutti questi personaggi lui è un po' come quei personaggi magici e come tutti i personaggi magici non vanno mai via rimangono nel cuore di tutte quelle persone che se lo ricordano e oggi noi abbiamo fatto un piccolo pezzettino ma dobbiamo ricordarlo sempre perché lui è proprio come i suoi personaggi magico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti i giorni grazie 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 continuate Ciao Marco, in arte prosa, è giusto. Marco, nella foga, nella tua timidezza non ti abbiamo neanche fatto parlare durante le dirette. Allora Marco, raccontaci un po' della tua meravigliosa, posso dire, stupenda opera d'arte. Bene, grazie, sono contente, queste sono soddisfazioni, comunque non è facile disegnare dei personaggi importanti come Manuel e soprattutto sapendo che comunque c'è una famiglia, c'è una storia, c'è comunque tanto dietro, quindi non è come fare un graffito classico che potrebbe essere un paesaggio o una barca. Guarda, io non me ne intendo, questo che poi è molto molto grande, poi lo vedremo bene. In quanto tempo l'hai realizzato? Allora, l'abbiamo realizzato in due, non l'ho fatto da solo. Allora, salutiamo il tuo collega. Ciao Fabio Poms, siamo parte di Wirande Street, un'associazione culturale che comunque siamo tutti appassionati di graffiti e facciamo tutti i graffiti e ci abbiamo messo da sabato sera fino a ieri pomeriggio, diciamo, a tratti, non completamente tutto il giorno. Perché poi vi è capitata anche la pioggia, giusto per? No, no, siamo riusciti a schivarla la pioggia, sempre, sempre, sì sì, guardiamo, una delle prime cose quando fai i graffiti è guardare il meteo. Guarda, è vero, hai ragione, non ci ho mai pensato, è certo. Quindi questa è la stagione dei graffiti, d'inverno è difficile. Questa è un'ottima stagione ma li facciamo anche d'inverno, è normale, d'estate fa caldo, d'inverno fa freddo. Ma tecnica bombolette? Scusa, io sono ignorante. Tecnica bombolette. Tecnica bombolette a tutta a mano libera. A mano libera? Sì, sì. Fantastico. Marco, io ti ringrazio, hai fatto una cosa meravigliosa, rimani lì che inquadriamo te e Manuel. Grazie Marco. Grazie. Grazie ancora.